La tessera elettorale L'elettore dovrà presentare presso la Municipalità di appartenenza domanda per ottenere il duplicato e consegnare l'originale deteriorato. In caso di smarrimento o di furto della tessera dovrà invece allegare alla domanda per ottenere il duplicato anche una copia della denuncia presentata presso l'autorità competente. Gli uffici presso le Municipalità cittadine saranno aperti in orari straordinari per il rilascio dei duplicati delle tessere e per il rinnovo delle carte d'identità. In particolare da martedì 10 a venerdì 13 maggio saranno aperti dalle 9 alle 19, sabato 14 maggio dalle 9 alle 20, domenica 15 dalle 8 alle 20 e lunedì 16 dalle 7 alle 15. Le votazioni si svolgeranno per il primo turno domenica 15 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 16 dalle 7 alle 15. Grazie per la visione!